Le immagini strazianti del rogo della cattedrale Notre-Dame a Parigi sono immagini devastanti per tutti gli europei, ma questo comune sentire che ci fa tutti oggi sentire parigini e francesi al di là di qualunque differenza di opinione, eccetera, è anche la dimostrazione di quanto il patrimonio artistico-culturale, la cultura è comune agli europei, quanto ci unisce, quanto è forte in realtà quella identità europea che spesso disconosciamo, per cui il rogo di Notre-Dame piuttosto che in passato quello del teatro La Fenice di Venezia o del castello di Windsor, ci colpiscono tutti in quanto europei, come avviene, come è avvenuto per gli attacchi terroristici sul territorio europeo in vari e diversi paesi. Tutto questo ci deve far riflettere sul fatto che in un mondo globale noi possiamo contare e difendere i nostri interessi, i nostri valori solo come europei e che abbiamo delle risorse anche culturali, importanti, identitarie, per cercare di rilanciare il processo di unificazione. E intanto possiamo dare dei primi segnali di solidarietà concreta rispetto a questa tragedia culturale, sia attraverso la sottoscrizione mondiale lanciata dalla Francia, ma soprattutto attraverso le istituzioni europee che dovrebbero fare subito uno stanziamento ad hoc per contribuire alla ricostruzione della cattedrale Notre-Dame di Parigi. Speriamo che la Commissione e il Parlamento europeo, riunito in questi giorni in plenaria a Strasburgo, agiscano in maniera rapida e tempestiva per dare un segnale concreto della solidarietà di tutti gli europei, come è avvenuto peraltro in passato in simili situazioni.